Come combattere la stanchezza mentale. Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, ideatore del metodo Ongaro, un approccio scientifico alla crescita personale e all'aumento della prestazione. Voglio darti subito un consiglio completamente disinteressato. Se ti piacciono questi argomenti iscriviti al mio canale. Non c'è dubbio che quando ci sentiamo stanchi, con scarsa energia, con questa sensazione di incapacità di agire, cerchiamo sempre di porre qualche rimedio immediato. L'ennesimo caffè, lo zucchero, il dolce, la pausa per la sigaretta, sono tutti esempi di tentativi di recuperare in qualche modo energia. E parlo ovviamente di energia mentale, che è l'energia che l'uomo moderno spende di più, usa di più e di cui ha ovviamente più bisogno. Però al di là del rimedio momentaneo, la vera domanda da farsi è come mai questa cosa accade? Cioè se accade ogni tanto, in particolare perché hai avuto una ragione per essere particolarmente stanco, potrebbe essere anche comprensibile. Ma chi si trova molto frequentemente in questo stato di bassa energia deve ovviamente chiedersi dove sta il problema. Ci deve essere da qualche parte un problema di squilibrio tra carico di lavoro, cioè quantità di cose che fai e recupero che ti dai. C'è un fattore che dal mio punto di vista risucchia una quantità enorme di energia nelle persone, perché avendo lavorato con tanta gente posso con abbastanza sicurezza dire sì certo ci sono gli impegni, c'è un sacco di lavoro, ci sono tante cose che ci stancano, ma c'è una cosa che stanca tantissime persone e che è del tutto sotto il nostro controllo, ed è il rimuginare. Cioè il fatto di non riuscire a smettere di pensare e in particolare a continuare a pensare a cose tra virgolette negative, perché il rimuginare in genere è legato a qualche forma di preoccupazione, cioè la mente parte via per le sue tortuose strade e noi perdiamo un pochino il controllo e finiamo col farci veramente un sacco di paranoie mentali per delle cose completamente inutili, cioè la stragrande maggioranza delle persone soffre, rimugina, si preoccupa per cose del tutto infondate, per cose che non accadranno mai o per cose che hanno una probabilità molto bassa di accadere. E molto spesso peraltro questo costante impegno del cervello in cose tra virgolette inutili fa sì che non ci sia abbastanza concentrazione e energia per occuparsi davvero bene delle cose invece importanti, per esempio la cura di se stessi. Io mi sono accorto di una relazione abbastanza stretta tra le persone che si preoccupano di cose inutili e le stesse persone che lasciano da parte, per esempio, curare se stessi, fare allenamento, mangiare bene, perché hanno la testa troppo occupata su altre cose, anche se appunto queste cose magari non accadranno mai. Credo che sia un punto molto importante che riguarda l'energia mentale perché se il cervello non si spegne, se continua a pensare in particolare a cose sgradevoli, è chiaro che la quantità di energia non sarà mai del tutto sufficiente. Questo ovviamente si accentua quando la persona ha per esempio un lavoro o una vita noiosa, quindi vive tante occasioni, chiamiamole di bassa dopamina nel cervello, che ti fanno sentire stanco e stufo e appunto vai alla ricerca di qualcosa che ti attiva. E attenzione che perfino sembra paradossale, ma perfino il pensiero negativo, il rimuginare, può diventare un modo per riattivarti di fronte a una mancanza di stimoli. Ovviamente un modo non efficace, un modo che alla lunga diventa una trappola. Qual è la soluzione per uscire da tutto questo? Beh è la tua migliore amica, la consapevolezza. Se riesci a sviluppare la consapevolezza, cioè il renderti conto degli stati in cui sei, sia degli stati di bassa energia che degli stati di alta energia, e il fatto che tu riesca a capirlo e a intervenire previene questi automatismi che ti portano invece fuori strada. È chiaro che la consapevolezza, sembra facile parlare di consapevolezza, in realtà sappiamo tutti che è la soluzione alla maggior parte dei nostri problemi, ma è molto difficile svilupparla. Bisogna creare dei meccanismi di intervento piuttosto aggressivi. E la prima cosa che uno deve fare è rompere un pattern, rompere un pattern di bassa energia o di tentativo sbagliato di recuperare energia, è l'unico modo che abbiamo per intervenire veramente sulla consapevolezza. Un modo banale può essere quello di usare il proprio corpo, per esempio, contrarre forte i muscoli e ripetersi una volta, due volte, dieci volte, cento volte, sono forte e ce la farò, tanto per citare un esempio che potrebbe essere quello di come condizionarsi per superare una sfida, è un modo per risettare il livello di energia e per trovare quella concentrazione mentale positiva che elimina anche il rimuginare, lo stare troppo sui pensieri. La consapevolezza è la soluzione e sappiamo che per intervenire sulla consapevolezza bisogna ripetere, ripetere, ripetere. Questi pattern si possono imparare, queste interruzioni si possono imparare, bisogna avere metodo. Se sei interessato a questi argomenti ricordati che questi video sono solo delle pillole, sono dei piccoli estratti, puoi andare molto più in profondità, in particolare per la fatica e la stanchezza c'è un corso sul mio sito che si chiama Supera la fatica, che è ricchissimo di pratiche che tu puoi inserire nella tua giornata per essere più sveglio, più reattivo e più energetico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!